La tecnologia FASSA SA500 Massetto autolivellante a base cementizia per pavimenti interni Fornito in silo, già pronto all'uso, pratico e veloce nell'applicazione SA500 è un premiscelato secco, composto da particolari cementi, sabbie classificate e additivi chimici che ne migliorano la lavorabilità e le caratteristiche autolivellanti Un nuovo traguardo qualitativo nei prodotti per l'edilizia Frutto di ricerca, rigorosa selezione delle materie prime e capacità industriale Controlli di mesi e mesi sui provini per confermare la straordinaria stabilità dimensionale di SA500 che non ritira e non si imbarca Ottime la resistenza alla flessione, 50 kg al centimetro quadrato e alla compressione, 200 kg al centimetro quadrato Eccellenti le doti di espansione, lavorabilità e autolivellamento Grandi o piccole superfici interne, molto frazionate, da pavimentare con poco tempo a disposizione Il massetto autolivellante SA500 è la soluzione più rapida e sicura per i sottofondi di abitazioni, scuole, palestre, uffici, magazzini La soluzione tecnologicamente più innovativa Finisce l'era dei pallet, degli imballaggi ingombranti, del disordine in cantiere Finisce l'era dei massetti tradizionali tirati con la stagia, con fatica e sudore, metro dopo metro Inizia l'era di SA500 e i sottofondi diventano facili e veloci da realizzare Il nuovo massetto autolivellante viaggia nei silos FAS per raggiungere qualsiasi cantiere, piccolo o grande SA500 è già pronto e dosato all'interno del silo Basta collegare l'acqua alla mescolatrice per avere il prodotto pompato fino al piano di lavoro Le qualità d'avanguardia di SA500 e il sistema silofassa garantiscono risparmio di tempo, fatica e manodopera praticità e facilità di applicazione pulizia del cantiere che sarà sempre sgombro da imballi Fino a 200-300 metri quadri al giorno con i metodi e i prodotti tradizionali Ma con la nostra tecnologia possiamo realizzare fino a 1000 metri quadri di massetto al giorno E per ottenere questi risultati straordinari si fa meno fatica che in passato Si ripulisce il solaio e si verifica che sia secco e stabile Per prevenire eventuali risalite di umidità dal solaio si consiglia di stendere dei fogli di polietilene I fogli devono rimontare sulle pareti e le giunzioni vanno sigillate con nastro adesivo resistente all'acqua Lungo le pareti si applica un nastro comprimibile alto almeno quanto lo spessore del massetto da realizzare Si fissano infine i livelli di riferimento per ottenere un massetto dello spessore desiderato Compiute queste operazioni di preparazione si procede al getto Grazie alla sua fluidità SA500 si distribuisce uniformemente e si autolivella Elimina irregolarità e inclinazioni del sottofondo Svolge così la funzione di massetto e anche quella di rasatura Si applica in spessori fra i 3 e i 6 cm Senza problemi di fessurazioni anche sulle grandi superfici Anche dopo il getto SA500 continua a far risparmiare tempo Il massetto è calpestabile il giorno successivo all'applicazione e non richiede più alcuna lavorazione Già dopo una settimana è possibile posare le piastrelle di ceramica Con l'igrometro a carburo, il più preciso, si controlla l'umidità residua Non appena inferiore al 2% si possono incollare pavimenti in legno, moquette o linoleum Il risultato sarà perfetto Perché la superficie del massetto autolivellante SA500 si presenta liscia Come se fosse stata eseguita una rasatura Continui test sulla qualità Fornitura in silo, eliminazione degli imballi, velocità e facilità di applicazione Dalla tecnologia FASSA SA500 Massetto autolivellante a base cementizia FASSA, prodotti all'avanguardia Al servizio dell'edilizia moderna Grazie 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 a tutti